Giotto ad Assisi Prima di parlare di Giotto ad Assisi dobbiamo dire che già su Youtube ci sono dei nostri video su alcune opere di Giotto in particolar modo il politico Stefaneschi di Giotto che si trova a Roma nella Vaticana nella Pinacoteca Vaticana poi le formelle alla base del campanile di Giotto a Firenze poi un'altra lezione queste sono proprio video lezioni questa delle formelle e quest'altra dello stile drammatico in arte e in letteratura che ho fatto in classe quando ero ancora un docente sono infatti adesso un dirigente scolastico ecco quindi quando ero docente avevo messo insieme la letteratura che spiegavo con l'arte che non spiegavo perché appunto ero un prof di lettere non di arte nel senso che ho spiegato appunto la lauda di Jacopone da Todi relativa a Maria sotto la croce di Gesù insieme con alcuni affreschi tratti dalla Cappella degli Scrovegni di Giotto ci sarà anche un quinto incontro quindi ce ne sono stati tre questo è il quarto su Giotto e l'ultimo sarà su Giotto a Padova finita questa introduzione sui miei video su Giotto dobbiamo anche ricordare ovviamente che abbiamo fatto dei video su Duccio Duccio di Buoninsegna abbiamo fatto dei video su Cimabue la volta scorsa abbiamo fatto dei video su Simone Martini possiamo incominciare a parlare di quello che è l'argomento principale del nostro incontro siamo intorno al 1296 in buona sostanza quando Giotto è giovane giovanissimo circa una ventina d'anni che vengono realizzati questi affreschi nella navata l'unica navata della Basilica Superiore di Assisi di San Francesco ad Assisi qui per esempio dice la nostra Francesca abbiamo usato l'arte di Giotto così come tu l'hai usata io l'ho usata in letteratura noi l'abbiamo usata per il Catechismo quando aveva più o meno 20 anni sono stati realizzati gli affreschi che si trovano nella parte inferiore delle due pareti laterali di questa Basilica Superiore partendo diciamo dal transetto entrando a sinistra noi troviamo il primo in ordine cronologico adesso lo vedremo San Francesco onorato dall'uomo semplice e poi ne abbiamo credo circa 14 a sinistra e poi arriviamo alla controfacciata la controfacciata sarebbe la parte interna della facciata quindi a metà più o meno del nostro percorso e poi risaliamo verso il transetto però nella parte destra e possiamo osservare gli altri circa 14 affreschi fino ad arrivare non solo la morte ma anche alcuni episodi che è miracoloso insomma che riguardano Francesco anche dopo la sua morte il primo affresco da osservare è questo omaggio del semplice San Francesco è onorato da un uomo semplice qui la scena è piuttosto una scena dei vari personaggi è piuttosto stringata invece è piuttosto complessa l'architettura perché è complessa dell'architettura perché probabilmente è questo uno degli aspetti anzi ci troviamo già di fronte a uno dei dipinti più innovativi se vogliamo di Giotto cioè il voler contestualizzare alcune cose all'episodio insomma della vita di Giotto come vedremo saranno ambientati anche in altri cittadini non solo dell'Umbria ma in generale dell'Italia centrale questo invece è avvenuto ad Assisi come dire è un fatto storico un evento che è accaduto quindi va contestualizzato e quindi per esempio viene pur stilizzando con una colonna in meno viene rappresentato al centro il cosiddetto Tempio di Minerva che si trova ad Assisi nella piazza centrale ancora di Assisi poi il palazzo a sinistra è quello del comune del capitano del popolo non so se riuscite a vedere però il particolare bellissimo qui in alto a sinistra di questo palazzo nella bifora quindi quella finestra diciamo divisa in due lì in alto a sinistra noterete che c'è un panno steso ecco questo è è già una delle caratteristiche fondamentali che vorrei farvi notare c'è l'estremo realismo dell'arte di Giotto quindi dicevamo da una parte la torre del comune poi ci sono altri edifici e quindi sicuramente questa contestualizzazione è importante Francesco non indossa ancora un saio anzi assolutamente ancora prima di essersi diciamo convertito alla vita religiosa Francesco indossa una tunica di quello che è in buona sostanza figlio di un commerciante figlio quindi di un borghese infatti la sua aureola è dorata ma la cosa importante dicevamo è questo uomo semplice che stende un tappeto come a dimostrare che chi ha lo sguardo acuto ha già intuito che Francesco non è uno come tanti altri è una persona che sta incarnando un grande cambiamento all'interno della chiesa e San Francesco che non è ancora santo anzi addirittura non è neanche frate gli rende omaggio numero due il dono del mantello una scena molto diversa dalla prima anzitutto per quanto riguarda l'ambientazione lì abbiamo visto un'ambientazione urbana qua invece un paesaggio ma soprattutto anche il metodo compositivo prescelto infatti San Francesco si trova all'incrocio di due diagonali indicate dal contorno delle colline del fondo il coordinamento dei vari elementi dello scenario concentra tutta l'attenzione quindi sull'azione del santo l'azione che si sta compiendo questo santo che regala questo mantello a un povero quindi a uno che ha bisogno i personaggi sono più tozzi nelle proporzioni ma più perentori nei gesti per esempio nella scena prima scena che abbiamo visto quella dell'uomo semplice che stende un mantello davanti a Francesco i gesti sono leggeri eleganti qui invece c'è qualcosa di più esplicito questo proposito questo ci dà il là diciamo lo spunto per riflettere su una questione annosa sulla quale noi non ci addentriamo assolutamente più di tanto cioè sull'attribuzione di questi affreschi noi diamo per scontato in una maniera un po' generica e semplicistica che questi siano affreschi di Giotto invece proprio per esempio il confronto tra il primo e il secondo affresco già ci può far capire che ci sono state delle mani diverse addirittura il primo il primo affresco è considerato non mano di Giotto ma di un altro autore chiamato il maestro di Santa Cecilia chiamato così anche per una parola d'altare dipinta per una chiesa fiorentina sta di fatto quindi che oggettivamente anche per l'ampiezza del progetto stiamo parlando di 28 affreschi di dimensioni veramente notevoli è probabile che non sia stato appunto solo Giotto a realizzare un tale ciclo può darsi più o meno come era avvenuto ne abbiamo già parlato parlando di Cimabue anche nella zona del transetto può darsi che ci sia stato un connubio di artisti che hanno contribuito alla realizzazione di questo ciclo di affreschi sta di fatto però che c'è qualcosa che li unifica e sono questi tratti realistici di cui abbiamo già parlato prima ecco questo cavallo in realtà all'inizio non era così nero scuro come lo vediamo adesso ma era bianco e qui abbiamo uno di quei processi chimici che abbiamo visto hanno deputurpato in maniera irreparabile certi affreschi di Cimabue e invece per quanto riguarda Giotto siamo stati un pochino più fortunati almeno in questo caso della Basilica Superiore di Assisi e quindi c'è stato solo parzialmente una decolorazione vediamo adesso qual è il terzo affresco del ciclo ed è il sogno del palazzo Francesco viene rappresentato sulla sinistra la sinistra è la parte col baldacchino è la parte in cui si esplica la presenza di Cristo che possiamo riconoscere dal fatto che ha una oreola crociata con una croce che si può intravedere che compare in sogno a Francesco e indica il suo futuro il suo destino attraverso che cosa? attraverso un palazzo d'armi cioè un palazzo all'interno del quale si possono scorgere degli scudi delle armi Francesco in un primo tempo ha interpretato questo sogno come la dimostrazione che la sua carriera doveva essere una carriera militare il suo futuro doveva essere nell'esercito nell'esercito crociato in modo particolare non so se riuscite a intravedere sono un po' piccoli però gli scudi sono crociati e questa è un'epoca di crociate e infatti si stavano organizzando degli eserciti proprio nell'Italia centrale poi più in giù verso l'Italia meridionale verso le Puglie magari per salpare alla volta del Medio Oriente per andare a combattere ed effettivamente Francesco si arruolò in una milizia tra l'altro fu partecipe ad uno scontro in cui insomma il suo esercito ebbe la peggio alla fine è evidente gli fu evidente da tutta una serie di segni che non era quello il suo destino e allora questo sogno beh questo sogno anzitutto deve essere accostato ad altri sogni proprio l'altro giorno stavo rileggendo la storia la vicenda umana la biografia di Don Giovanni Bosco appunto ho visto quanti sono i sogni e le visioni che sono importantissime nella vita di Giovanni Bosco è una cosa quindi abbastanza usuale nella ageografia quindi nella vita dei santi la presenza di sogni di visioni diciamo che poi Francesco riesce a capire ma solo dopo tanto tanto tempo che cosa indicava questo palazzo d'armi che gli era indicato addirittura da Cristo insomma in questo sogno beh si tratta in realtà della costruzione del suo ordine dell'ordine francescano l'ordine francescano infatti ha una gerarchia che è qui rappresentata attraverso i vari piani dei palazzi ed è un ordine che combatte ma non combatte con le armi ecco combatte anzitutto con l'esempio direi certamente anche con la parola per carità nel senso che è un ordine mendicante e in analogia con quello che facevano contemporaneamente anche i dominicani spesso era fondamentale protagonista in alcune vicende di lotta all'eresia lotta agli eretici anche di inquisizione non dobbiamo pensare che cioè insomma i francescani e i dominicani furono loro decisamente più protagonisti dell'inquisizione piuttosto che i benedettini certosini o cistercensi che erano conventuali e quindi diciamo che non intervenivano direttamente nella vita della società in un certo senso davvero si tratterà di lottare ma non nel senso che aveva pensato Francesco in un primo tempo un altro episodio tutti questi episodi di attenzione avvengono prima che ci sia una svolta radicale fondamentale della sua vita è quello del colloquio col crocifisso di San Damiano perdonate la mia ingenuità ma io quando vedo questo affresco ricordo mi viene in mente immediatamente Don Camillo Don Camillo che parla col suo crocifisso nella sua chiesina di questo paese sulle rive del Po ecco infatti l'atteggiamento è più o meno questo cioè Francesco una volta rientrato ad Assisi risulta piuttosto turbolento non ha ancora trovato la sua strada e sta un po' vagando sta un po' cercando di capire che cosa fare della sua vita quando vede questa chiesa diroccata la chiesa di San Damiano è in questa chiesa un crocifisso si mette semplicemente a pregare davanti a questo crocifisso ma il crocifisso gli parla e gli dice appunto di riparare questa chiesa questo episodio viene poi interpretato nella leggenda Maior che è la fonte fondamentale ecco di questi affreschi cioè intendo dire della composizione di questi affreschi la leggenda Maior è stata scritta da San Buonaventura anche perché doveva soppiantare una leggenda minor se non sbaglio di un certo frate Tommaso da Celano che aveva divulgato una biografia di San Francesco non espurgata piena di aspetti che potevano anche essere contraddittori fra di loro o comunque non perfettamente in linea con quello che intendevano trasmettere i successori di Francesco ecco il motivo per cui San Buonaventura che fu uno dei teorici più importanti degli ascetti più importanti francescani si mise a scrivere invece una biografia che fosse quella ufficiale e quindi su questa biografia che poi si costruisce anche l'impianto ideologico se vogliamo di questi affreschi è qui che compare questa scena edificante di questo crocifisso che parla a San Francesco con l'intento di dire essenzialmente non solo materialmente e propriamente ripara davvero questa chiesa perché questa chiesa da riparare magari l'avrà fatto anche San Francesco insieme con qualche suo amico che poi diventerà suo fratello suo frate ha riparato questa chiesa la chiesetta di San Damiano ma poi metaforicamente Francesco è destinato a riparare la chiesa in generale che in quel tempo era una chiesa piuttosto attaccata da varie riforme movimenti pauperistici eretici per lo più che comunque al proprio interno era anche corrotta e quindi che aveva bisogno di una rigenerazione in senso evangelico dice per esempio il nostro amico dal Montenegro dopo 30 anni 5 anni fa sono ritornato di nuovo da Sisi era come se fossi lì per la prima volta stasera sono di nuovo nella basilica di San Francesco grazie a lei professore ti ringrazio io veramente Alberto per questo tuo contributo ecco il momento della svolta ecco il momento della scelta decisiva di vita in questo suo girovagare tra l'altro anche andando a spendere determinati soldi di famiglia la sua famiglia era piuttosto ricca suo padre Pietro Bernardone era parecchio ricco a un certo punto si trova l'ostilità del padre il quale gli dice ma come io ho pensato un futuro di ricchezza per te adesso tu invece cosa fai vai in giro per il paese tra l'altro insomma anche un po' malandato proprio mio figlio oltretutto e vai anche a sperperare a spendere soldi in questioni veramente che sembrano senza futuro ecco per te per il tuo destino allora sai che cosa ti dico io ti voglio processare allora San Francesco lì davanti a tutti spesso si usava anche il vescovo per dirimere delle questioni quindi delle cause chiamiamole così il vescovo era un'autorità non solo religiosa a quell'epoca ma poteva assumere dei connotati sia a livello giuridico sia addirittura anche a livello politico stavamo parlando adesso di questa sorta di mini processo che si svolge davanti al vescovo ebbene Francesco non fa nulla per impedire di perdere tutti gli averi che erano tanti che gli lasciava suo padre ma addirittura si spoglia davanti a tutti è uno scandalo il vescovo lo copre quindi per coprire le impudicizie diciamo così il suo corpo nudo ma è anche in un certo senso questo questo gesto del vescovo è anche una dimostrazione di come la chiesa voglia proteggere Francesco voglia accogliere Francesco nel suo grembo infatti noi qui abbiamo due gruppi di personaggi fortemente distinti fra di loro separati cioè Pietro Bernardone con tutti i familiari i suoi amici che condividono lo sdegno nei confronti di Francesco da una parte addirittura ci sono dei due bambini due ragazzini qua in basso a sinistra che hanno dei sassi in mano quindi volevano magari lanciarli a Francesco perché lo ritenevano uno stupido a tutti quanti questo però è il mondo questa è la visione diciamo mondana della vita dall'altra parte invece abbiamo il vescovo gli ecclesiastici che sono quelli che accolgono appunto Francesco e che rappresentano invece un modo di vedere le cose decisamente più spirituale il tutto viene inserito in un contesto con delle architetture urbane che rappresentano anche una delle grandi novità della pittura di Giotto nel senso che lui inserisce queste architetture e le dipinge di scorcio non è sicuramente una prospettiva perfetta non c'è un punto di fuga però di fatto già questi edifici sono rappresentati in forma tridimensionale e infatti uno degli aspetti più importanti di questi affreschi di Giotto è che lui porta la corporeità nei quadri accentuando quanto noi avevamo già visto ad esempio nel crocifisso di Santa Croce di Cimabue in maniera diciamo embrionale sempre più volume viene dato sempre più concretezza e più realismo alla pittura da Giotto in poi è una vera e propria rivoluzione quindi quella che fa Giotto adesso abbiamo il sogno di Innocenzo III la sesta delle 28 scene degli affreschi della Basilica Superiore di Assisi del ciclo di affreschi sulle storie di San Francesco anche in questo caso abbiamo una netta divisione del dipinto quindi dell'affresco in due zone la zona sinistra e la zona destra nella zona destra abbiamo il Papa il Papa Innocenzo III che sta dormendo e due probabilmente ecclesiastici che lo assistono che gli sono vicino mentre invece nella parte sinistra abbiamo ciò che sogna il Papa il Papa Innocenzo III uno dei papi più teocratici della storia tra l'altro lui sogna San Francesco che regge una chiesa una chiesa inclinata che attraverso una serie di mosaici che si intravedono in modo particolare possiamo sicuramente identificare con la Basilica della Terano la Basilica della Terano era allora la chiesa del Papa poi solo in seguito il Papa si sposterà in Vaticano ma allora dimorava proprio in la Terano come dire quindi che regge la Chiesa Romana non la Curia perché la Curia abbiamo detto che stava un po' travisando ah ecco Francesco Falcini si ricorda a questo proposito anche le canzoni della famoso Fratello Sole Sorella Luna quel film di Zeffirelli con diciamo le varie canzoni una dedicata appunto alla costruzione della chiesa di San Damiano questo sogno rappresenta essenzialmente questo la chiesa è rovina e Francesco reggerà la chiesa dopodiché abbiamo Francesco che finalmente viene accolto dopo questo sogno però solamente dopo questo sogno viene accolto da Innocenzo III Innocenzo III l'ha fatto sostare fuori dai suoi palazzi per mesi e mesi per più di tre mesi infatti Francesco non poteva entrare all'interno del palazzo del Pontefice perché il Pontefice e soprattutto poi la Curia e i suoi consiglieri aveva una certa diffidenza nei suoi confronti nei confronti di Francesco però dopo questo sogno Innocenzo III decise di aprirgli le porte e di accogliere di ascoltare Francesco e i suoi frati poverelli che l'avevano che l'avevano seguito i dodici erano arrivati a dodici era un numero simbolico importante importante per noi perché è una delle tante analogie fra Francesco e Cristo Innocenzo III lo accoglie San Francesco espone la sua regola che è una regola estremamente rigida fin troppo rigida tant'è vero che poi sarà addirittura persa perché era talmente qualcosa che solamente lui poteva portare a compimento in modo coerente però diciamo che Innocenzo III ha questa intuizione cioè di non cacciare o denigrare una scelta così radicale perché perché poteva essere invece funzionale quella che era la lotta contro le eresie che Innocenzo III stava facendo proprio in quegli anni nel senso che poteva rappresentare un'alternativa alle eresie poteva rappresentare una via ortodossa al come dire al ritorno alla povertà evangelica cioè intendo dire che tanti movimenti i patarini i catari i valdesi dell'epoca propugnavano il pauperismo quindi il ritorno alla povertà evangelica però di fatto con un corollario importante che nel momento che la curia romana incarnava l'esatto opposto rispetto alla povertà evangelica occorreva distaccarsi totalmente dalla curia romana invece San Francesco viene dal Papa a chiedere udienza e quindi il Papa intuisce che è il caso di accoglierlo è il caso quindi di cercare in un certo senso di sfruttare il seguito che lui ha per fare in modo di in qualche modo di metabolizzare queste spinte riformistiche piuttosto che contrastarle tutte soprattutto quando non sono così oppositive come nel caso di Francesco e appunto di Domenico l'approvazione della regola da parte del Papa Innocenzo III è però solo verbale orale non viene scritta ecco il motivo per cui questa prima regola di fatto rimase fu addirittura persa come vi stavo spiegando quindi prima rimase un primo step che poi assolutamente fu modificato nel corso dei decenni seguenti nel senso che ci furono una seconda una terza versione decisamente più ammorbidita della regola e poi solo col Papa successivo se non sbaglio Onorio Onorio III solo allora si ebbe l'approvazione scritta della regola quindi con la pubblicazione della regola dell'ordine francescano pensate che già nei primi anni del francescanesimo quando era ancora vivo lui ci furono dei contrasti fra francescani vediamo la stessa scena resa in una maniera un pochettino più statica ieratica nella cappella dei Bardi la cappella dei Bardi insieme alla cappella dei Peruzzi erano delle cappelle che si trovavano in Santa Croce a Firenze finanziate appunto da queste famiglie di grandi banchieri che proprio assoldarono Giotto per la realizzazione di questi affreschi ma in una fase della vita di Giotto completamente diversa non più una fase giovanile come quella degli affreschi della Basilica di Assisi ma una fase tardiva una fase in cui lui aveva fatto tante esperienze ed era andato anche a Napoli dove c'era una cultura se vogliamo anche artistica più orientaleggiante quindi con degli aspetti anche più spirituali meno realistici insomma che può darsi che abbiano in qualche modo influenzato il Giotto dell'ultima stagione certo noi vediamo sempre anche qui la corporeità però ecco c'è minore rivoluzione ecco negli affreschi della minore potenza negli affreschi della Cappella dei Bardi tranne uno che è quello che riguarda appunto la prova del fuoco davanti al Sultano poi la visione del carro del fuoco è un affresco pensato in cui Francesco non c'è ci sono solo frati che stanno sognando Francesco o meglio Francesco c'è sì ma in sogno su un carro esattamente come era accaduto ad Elia di cui si parla nella Bibbia nell'Antico Testamento poi la visione dei troni è la dimostrazione che Francesco è destinato al Paradiso alla Santità tanto che anche in questo caso c'è la visione di un frate che ha questa premonizione ha questa profezia cioè che il trono che lì in Paradiso c'è un trono dedicato a Francesco già pronto per lui un trono che prima era di un angelo ribelle e adesso sarà destinato a lui sarà destinato a Francesco nella cacciata dei diavoli abbiamo invece un'altra città che è la città di Arezzo che è rappresentata appunto con le sue mura con le sue case diciamo variopinte da una parte e dall'altra anche da una cattedrale principalmente c'è una sorta di contrapposizione tra queste due parti della città quindi la chiesa la parte spirituale l'altra la parte materiale è insediata dal diavolo dai diavoli allora succede che non Francesco che si trova semplicemente inginocchiato a pregare in basso a sinistra ma un suo frate faccia una specie di esorcismo per cacciare i diavoli quindi per cacciare questo male dalla città ecco il particolare dei diavoli cacciati dai tetti delle case di Arezzo ecco questa è la prova del fuoco di cui vi parlavo anche nella cappella Bardi ci sono storie di San Francesco un po' deturpate addirittura pensate che furono apposti dei monumenti funebri davanti agli affreschi della cappella dei Bardi a Santa Croce per cui ci sono proprio dei pezzi di affresco che sono non esistono più perché sono stati totalmente diciamo sostituiti da parti di monumenti funebri stiamo dicendo quindi della prova del fuoco davanti al fuoco San Francesco è disposto ad attraversarlo e superarlo perché si sente protetto da Dio non altrettanto gli astanti musulmani e quindi di fronte a questo il sultano rimane decisamente ammirato attenzione ci troviamo ad Amietta ci troviamo pertanto in Egitto dove il sultano che è sultano d'Egitto e sultano di Siria sta tra l'altro raccogliendo proprio le sue truppe per contrastare i crociati e quindi in un primo tempo vede degli europei ecco che vagano e pensa che siano disertori e poi invece si accorge che sono appunto dei religiosi che stanno cercando di convertire ma non tanto di convertire così sicuri di poterlo fare tant'è vero che poi il sultano non si convertirà per niente ma più che altro stanno cercando di far capire anche la bontà della religione cristiana a questo sultano per convincerlo a non continuare la guerra all'epoca però pensate a capo dell'esercito crociato c'era un cardinale che invece la guerra la voleva fare come e quindi che aveva visto di mal occhio insomma Francesco e i suoi quando erano arrivati là in Egitto ma come vi stavo spiegando l'intento ultimo di Francesco era proprio quello di fare la pace di creare le condizioni per la pace creare le condizioni vuol dire una conoscenza una conoscenza reciproca soprattutto poi che questi musulmani conoscano che cosa vuol dire essere cristiani così voleva cercare di convincerlo alla pace sappiamo che anche Federico II in quegli stessi anni cercò una specie di mediazione con il sultano a differenza di quello che faceva quel cardinale che guidava i crociati nella quinta crociata l'estasi anche qui abbiamo una specie di sogno di visione abbiamo la parte terrena che qui è rappresentata dai frati e da un'architettura sulla sinistra e invece la parte più spirituale che è rappresentata dalla metà destra ecco della fresco quindi dallo stesso Francesco sulle nuvole e Cristo che gli compare proveniendo dalle sfere celesti ecco rappresentate in senso tolemaico al suo fianco e poi abbiamo l'episodio del presepe di Greccio pensate che praticamente ci troviamo esattamente a 800 anni dal primo presepe dal presepe di Greccio nel senso che il primo presepe fu fatto il Natale del 1223 noi oggi siamo appunto nel Natale del 2023 quindi esattamente 800 anni dopo ricordiamo questo episodio cioè Francesco prende un bambino e ne fa una rappresentazione vivente presepe vivente della nascita di Cristo tutti intuirono la forza anche popolare ecco di questo tipo di rappresentazione che di fatti da quel momento in poi continuo sia nelle forme di vera e propria rappresentazione quindi di presepe vivente sia nelle forme che noi più conosciamo tradizionalmente che sono quelle di rappresentazioni di figure un altro episodio presente nella leggenda mayor di San Buonaventura è quello di Francesco che fa sgorgare l'acqua da una rupe per abbeverare un assetato vediamo infatti l'assetato in basso a destra che riesce a lambire finalmente l'acqua di cui aveva tanto bisogno ma in quella zona arida sembrava non potesse averne e invece Francesco fa arrivare fino a lui il fiotto d'acqua ci troviamo adesso vicino al castello di Bevagna in Umbria è lì che appunto vuole sempre la leggenda che Francesco abbia parlato agli uccelli anche in questo senso anche in questo episodio ha un carattere decisamente evangelico perché Cristo stesso aveva detto che gli uccelli nei campi erano in grado di conoscere meglio il loro ruolo nel creato e conosciamo anche l'abbiamo letto insieme il cantico di Frate Sole di Francesco che dà ad ogni aspetto della creazione un valore grande tanto che si può lodare Dio attraverso la sua creazione chiaro che questa cosa è stata interpretata invece più recentemente in senso un pochettino ecologista vedi anche l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco un altro episodio che viene narrato in questa leggenda è quando lui Francesco fu invitato da un cavaliere di Celano a pranzare e proprio nel bel mezzo del pranzo questo cavaliere improvvisamente ebbe un colpo e morì fece in tempo però a confessarsi e qui abbiamo in un certo senso in questa rappresentazione è quasi una sorta di sintesi di alcuni sacramenti la confessione vi dicevo la comunione rappresentata da questa tavola in primo piano che era tavola da pranzo perché il cavaliere aveva invitato a pranzo Francesco ma che diventa anche tavola eucaristica perché infatti su questa tavola ci sono esattamente i simboli dell'eucaristia quindi il pane simbolo del corpo di Cristo il vino simbolo del sangue di Cristo e il pesce che è simbolo di Cristo stesso simbolo di salvezza Lixius e Iesus Christos Teosoter Iujos Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore la predica dinanzi a Onorio III ecco l'Onorio III quello famoso della conferma però di quella definitiva scritta della regola e pensate che parecchi anni dopo essere andato a Roma a parlare ad Innocenzo III ci ritornò Francesco non solo a parlare ma addirittura fare una predica davanti a Onorio III esattamente un pochettino come aveva fatto Gesù a 12 anni quando fece un discorso davanti ai sapenti del Tempio a confermare l'analogia fra Francesco e Cristo di cui vi stavamo parlando prima un'altra analogia l'apparizione le apparizioni come ci furono tante le apparizioni di Cristo al capitolo di Arl in una scena che viene rappresentata in maniera molto analoga a quella dei vari cenacoli quindi alla rappresentazione di Cristo fra gli apostoli chiaro però che risulta importante uno dei tanti frati che si trova in piedi a differenza degli altri aureolato sulla sinistra si tratta di Sant'Antonio Abate che era un frate francescano a cui fu affidata anche il compito di andare a a combattere sul piano però ovviamente diciamo verbale i catari in Francia eccolo qua Francesco che appare al capitolo di Arl cittadina che si trova appunto in Provenza come dire quindi la presenza dei francescani che anche loro cercano di contrastare sul campo i catari che si erano così diffusi in quella zona in quella regione narra infine la leggenda maio che San Francesco ricevette le stimmate da Cristo un Cristo che qua è presente come sotto forma quasi di cherubino quindi di angelo in un monte isolato laverna riceve le stimmate cioè ha sul suo corpo le stesse piaghe che aveva Cristo Cristo crocifisso anche questo è una sorta di dimostrazione della impersonificazione della immedesimazione in Cristo imitazione di Cristo di Francesco che è un alter Christus se vogliamo cioè è un secondo Cristo 1200 anni dopo incarna la sua povertà e la radicalità del suo messaggio il trapasso la morte di Francesco viene rappresentata però anche qua su due piani il piano temporale materiale è quello che vede il corpo di Francesco diventare un cadavere compianto dai suoi frati esattamente come possiamo vedere il compianto di Cristo per esempio nella cappella degli Scrovegni poi ci sono i chierici che rappresentano un po' da tramite fanno da tramite il passaggio ad un altro livello un livello superiore un livello celeste che è il livello in cui Francesco ricompare sì ma nei cieli perché c'è stato un trapasso c'è stato un transito la morte è un transito la morte non è una fine ma è un passaggio ad una vita che nel caso dei beati è una vita più elevata ecco qui vediamo la rappresentazione della morte di Francesco nella cappella Bardi qui siamo stati secondo me un po' più fortunati ecco rispetto ad altri affreschi della cappella Bardi e secondo me effettivamente qua possiamo ritrovare molti degli aspetti che ci interessano e ci piacciono più dell'arte di Giotto quindi per esempio la rappresentazione dei sentimenti certi gesti che ripeto li ritroveremo nel compianto sulla morte di Gesù della cappella Scrovegni e certi volti così proprio anche li vediamo pieni di di volume ecco dei personaggi dipinti da Giotto una volta morto dicevamo comunque non terminano le apparizioni anzi Francesco appare in punto di morte fra Agostino ed un vescovo in due località completamente diverse lontane fra di loro come a testimoniare di come ci sia la sua presenza dappertutto anche diciamo contemporaneamente perché è una presenza spirituale non è una presenza materiale l'accertamento delle estimate è un altro episodio che rende analogo insomma la vita di Francesco e anche la sua morte rispetto a quella di Cristo perché così come ai tempi di Cristo c'era Santo Maso che non credeva di avere davanti Cristo che Cristo avesse patito tutto quello che aveva patito così ai tempi di Francesco c'era chi non credeva al miracolo delle estimate e così alcuni andarono proprio anche quando c'era ormai il cadavere di Francesco a verificare la veridicità di quanto si diceva su quello che era rimasto sulle sue mani sulle mani di Francesco il cadavere di Francesco fu portato anche nei pressi del monastero delle Clarisse dove c'era Santa Chiara che possiamo vedere qui china sul cadavere di Francesco anche lei con l'oreola e dove fu compianto diciamo così la morte di Francesco ma uno dei particolari più interessanti che vorrei farvi notare di questo affresco è chi si sta arrampicando sull'albero in alto a sinistra è una cosa che fa anche qui venire in mente un episodio evangelico e quindi ancora una volta testimoniare l'analogia fra la vita di Francesco e quella di Cristo perché fa venire in mente l'episodio di Zaccheo che salì su un albero proprio per intravedere Cristo questo invece è l'episodio della canonizzazione pensate che la canonizzazione di Francesco avvenne appena due anni dopo la sua morte era tale la nomea la fama di santità di Francesco che fu reso santo dopo appena due anni cosa estremamente inusuale all'epoca dovete sapere che ci sono spesso santi che di quell'epoca che furono canonizzati secoli e secoli dopo Giovanna d'Arco ma non solo ancora una volta l'apparizione di Francesco ad un papa papa Gregorio IX sempre questi pappi vengono rappresentati anche con i loro vesti da cerimonia a letto proprio per poterli distinguere rispetto ad altri la guarigione dell'uomo di Lerida Francesco era in grado di guarire gli ammalati esattamente come Cristo la confessione della donna di Benevento è un episodio un po' strano e particolare perché si trattava di una donna già morta che però non aveva fatto in tempo a confessarsi Francesco chiese ottenne da Dio di poterla resuscitare solo il tempo sufficiente per poterla confessare perché lei confessasse i suoi peccati e quindi la sua anima fosse santa e infine la liberazione dell'eretico Pietro di Alife questo eretico in realtà non era eretico e viene liberato infatti proprio da Francesco che scioglie tutte le catene tutte le sbarre che chiudevano la cella dell'eretico proprio perché lui si era rivolto a Francesco spiegandogli che il suo modo di pensare non era affatto un modo di pensare eretico anzi e allora a questo punto Francesco commosso andò a salvare questo eretico Pietro di Alife vorrei concludere dicendo una cosa che quindi abbiamo detto 1296 un po' prima un po' dopo comunque gli ultimi anni del 1200 gli affreschi della basilica superiore poi Giotto ritornò ad Assisi per affrescare parti della basilica inferiore come ad esempio questo bellissimo affresco di Francesco che sposa la povertà che è realizzato non solo da lui ma anche da sicuramente dai suoi aiuti ma che ben rappresenta e completa se vogliamo il ciclo appunto francescano giottesco perché è proprio la rappresentazione di Francesco che sposa la povertà rappresentata qui come una donna vestita di tanti pezzi di vestiti diversi sposa la povertà e quindi in un certo senso non può che essere sposato da Cristo è Cristo che unisce insieme Francesco e povertà perché Cristo è stato il primo a incarnare questo ideale di povertà assoluta lo sfondo oro però vedete dà un senso particolare a questa scena che evidentemente è una scena collocata in un altrove e poi invece abbiamo il ciclo delle storie della Maddalena anche la Maddalena è un personaggio particolare perché anche lì c'è una storia una leggenda su Maddalena e agli episodi evangelici come quello del famoso non mi toccare quando lei che era proprio la più peccatrice di tutte fu la prima ad accorgersi che Cristo era risorto ma Cristo gli disse non mi toccare non i miei tangere ma poi ci sono anche altri episodi della vita di Maddalena non contenuti ovviamente nel Vangelo per esempio questo assomiglia ad una preghiera ad un'ascensione in cielo ecco infatti portata in cielo dagli angeli e quest'ultimo che vediamo è l'ultimo dipinto che vediamo oggi che è il viaggio a Marsiglia quindi che rappresenta appunto dicevo delle scene della vita di Maddalena poi come abbiamo detto ritornerà a dipingere la storia di Francesco nella Cappella Bardi ma tanto tanto tempo dopo magari tra gli anni 20 e 30 addirittura del 300 e sono quegli affreschi di cui abbiamo visto qualche esempio qualche particolare in precedenza bene abbiamo concluso questa prima parte che rappresenta la parte decisamente rivoluzionaria della pittura giottesca perché questo ciclo di affreschi ebbe una risonanza tale che la pittura non fu più la stessa da quel momento in poi e alcuni aspetti di questa pittura quindi la fisicità ma nello stesso tempo anche le emozioni rappresentate il realismo il volume il tentativo di prospettiva per ogni singolo però per ogni singola architettura a sé stante spesso non ci siamo non abbiamo approfondito il concetto ma spesso ci sono delle architetture che appositamente hanno delle prospettive opposte non perché si voglia rappresentare in modo realistico la scena con un punto di fuga assolutamente no anzi certe volte si va contro il concetto nostro che noi conosciamo dal 400 in poi di prospettiva ma proprio perché ogni singola architettura doveva avere il suo scorcio e doveva avere anche un valore simbolico e quindi se due architetture rappresentavano due mondi diversi ad esempio il mondo terreno da una parte e il mondo divino dall'altra erano rappresentati con un scorcio diverso con un'angolatura diversa